Nuovo appuntamento con l'informazione targata Star Casino Sport, gli approfondimenti che ci portano a parlare del mondo del calcio, del tennis e del basket. Nel nostro sommario i temi salienti che poi andremo ad analizzare partendo dalla finale di Supercoppa. Da una parte c'è l'Inter di Simone Inzaghi che prova a rilanciare Celanoglu, si affida a Geco e Lautaro in zona d'attacco per affrontare al meglio la Juventus. Falcidiata dalle tante assenze e in questo momento spicca la difezione più importante, quella di Federico Chiesa, stagione finita praticamente per lui. Supercoppa anche per quanto riguarda la Spagna e spicca la sfida tra Barcellona e Real Madrid, Match che però si giocherà allo stadio internazionale Refad di Riyadh in Arabia Saudita, nuovo formato con le semifinali. E spicca appunto la sfida tra Xavi e Ancelotti e poi il mondo del tennis con Djokovic che in attesa di capire quello che sarà il suo futuro in Australia si allena per la prima volta a Melbourne cercando di essere in forma e presentarsi nel migliore dei modi proprio agli Australian Open. La partenza è dedicata alla finale di Supercoppa Italiana ovviamente con una Juventus che deve riflettere soprattutto sulle tante assenze in questo momento per Max Allegri, Allegri che dovrà rinunciare a Chiesa, stagione finita, De Ligt a Quadrado, si è allenato in gruppo anche Danilo ma non dovrebbe essere in campo dall'inizio, non ci sono buone notizie neanche da Bonucci e di conseguenza dovrà cercare di mettere in campo la formazione migliore e possibile la Juventus. Una formazione che possiamo vedere anche in grafica per quanto riguarda l'assetto tattico dei bianconeri nell'affrontare appunto l'Inter con Morata, Bernardeschi di Bala in quello che è il tridente d'attacco proprio per quanto riguarda la formazione bianconera. Sull'altro versante invece abbiamo l'Inter di Simone Inzaghi, un Simone Inzaghi che sale sull'otto volante in campionato complice l'ottava vittoria consecutiva, non vuole più fermarsi, ha praticamente tutto l'organico a disposizione, si lavora molto anche sul rinnovo di Brozovic, oltre che sui rinnovi dello stesso Inzaghi e anche di parte della dirigenza, se non la dirigenza completa, è presente anche il presidente Zhang in questi minuti, in questi giorni, proprio su Milano. In attacco, lo possiamo vedere anche dalla possibile formazione per quanto riguarda l'Inter, spicca la presenza di Dzeko con Lautaro Martinez, insomma, è quello che sarà anche il quadro relativo alle scelte per quanto riguarda i due allenatori. È una settimana intensa che riguarda non solo la Supercoppa, ma anche la Coppa Italia e allora c'è una Fiorentina che deve un po' richiamare l'attenzione. In questo momento affronterà il Napoli, una Fiorentina che è uscita sconfitta dalla sfida con il Torino, anche pesantemente, anche se comunque italiano va verso il rinnovo contrattuale in prospettiva futura, ma vuole riscattarsi contro il Napoli. Da par suo, Luciano Spalletti, però, a quanto riguarda il Napoli, cerca di capire anche le previsioni che portano al recupero di Victor Ozyman, visto che è considerato, insomma, che sarà una pedita importante, non tralascia le strategie di mercato e nel frattempo cerca, ovviamente, di analizzare la situazione anche per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia. Una sfida che andiamo a sintetizzare anche in grafica, perché cerchiamo di capire anche quello che potrà essere il risultato esatto, 1 a 1 al 13%, 2 a 1 al 14%, questo secondo chiaramente quello che è il laboratorio statistico di Star Casino Sport. Dicevamo, settimana intensa non solo in Italia a livello di Supercoppa, ma anche in Spagna. Vi facciamo vedere l'arrivo rispettivamente del Real Madrid e del Barcellona, partendo chiaramente dalla formazione di Carlo Ancelotti, perché è un classico che non vanta più la presenza di Messi e Cristiano Ronaldo, ma sicuramente è sempre una gara di grandissimo prestigio, quello che andrà in scena in Arabia Saudita, con un nuovo formato che prevede la partecipazione delle due finaliste della Coppa del Re l'anno scorso, Barcellona e Atletico e Bilbao, le prime due classificate della scorsa Liga, Atletico Madrid e Real Madrid. Le due semifinali sono in programma e vedranno la sfida tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani alle 20 e poi Atletico Madrid e Atletico Bilbao, giovedì alle ore 20. Per quanto riguarda il Real Madrid, continuare a fare bene è un po' l'imperativo, convincere con Benzema e con Vinicius in prima linea, 24 giocatori convocati, recuperato Carvajal dall'infortuno, Jovic dalla positività al Covid, assente invece Gard Bale e Mariano. Mentre per quanto riguarda il Barcellona di Xavi per il riscatto, dopo una prima parte di stagione difficile, dopo un amaro pareggio contro il Granada nell'ultimo turno di Liga, Xavi ha convocato 24 giocatori con diversi canterani e alcune novità come Ansu Fati, questo per quanto riguarda appunto la formazione blaugrana, come detto è una sfida che non si gioca né al Camp Nou né al Bernabeu, ma si gioca allo stadio internazionale Re Fad di Riad, spettacolo assicurato tra le due formazioni ovviamente per quanto riguarda la Supercoppa in Spagna. Lasciamo così il calcio e ci soffermiamo invece su quello che è il caso del momento, ma vediamo anche le immagini dell'allenamento di Novak Djokovic, visto che è considerato insomma che nel frattempo si tiene in forma in quel di Melbourne, la partecipazione agli Australian Open è ancora in forza, però Djokovic in questo momento si allena, alcune riprese aeree che vediamo lo hanno immortalato allenandosi con i suoi tecnici Roadlover alla Roadlover Arena, Djokovic rischia ancora di essere espulso dal paese perché non è vaccinato contro il Covid, però ovviamente nel frattempo cerca di tenersi in forma e prepararsi nel migliore dei modi proprio a questa sfida, nonostante quello che è il clamore un po' dell'opinione pubblica. Dal tennis andiamo anche a focalizzare l'attenzione sul mondo dell'NBA e quindi apriamo anche la parentesi dedicata al basket, i risultati della notte perdono tutte le big, Nets, Jets e Bucks, K-O a sorpresa, secondo K-O consecutivo per Milwaukee a Charlotte, tra l'altro perde anche Brooklyn a Portland e nonostante i 50 punti della coppia Durant-Hirving, gli stessi realizzati da Brown e Tatum nel successo di Boston su Indiana, successi anche per New York, Philadelphia e Cleveland su San Antonio, Houston e Sacramento, questo per quanto riguarda anche il mondo del basket e con la pallacanestro siamo giunti in chiusura del nostro angolo informativo targato Star Casino Sport.